La giunta regionale guidata dal presidente Marsiglio nella seduta di martedì ha deliberato lo schema della convenzione per la nascita anche in Abruzzo degli uffici di prossimità del sistema giudiziario ad ospitare questo nuovo servizio finanziato dal ministero della giustizia anche il comune di Penne nella sede dell'ufficio del giudice di pace il largo San Giovanni Battista. Gli uffici di prossimità consentiranno ai cittadini di avere un filo diretto con chi amministra la giustizia così da poter avere risposte veloci su questioni che riguardano la sfera familiare e personale. Questo nuovo ufficio servirà a fornire ai cittadini una rete di servizi collegati al sistema giudiziario con particolare attenzione a quelli appartenenti alle fasce deboli. Questo sportello consentirà di svolgere tutte le attività relative alle iniziative giudiziarie in particolare come certificati volontari a giurisdizione e soprattutto tutti quegli atti che riguardano le cosiddette fasce deboli. Quindi Penne con una tradizione importante storica è stata sede di pretura di sezione di staccate il tribunale di Pescara nonché giudice unico e oggi sede di giudice di pace andrà ad ospitare questo sportello fondamentale soprattutto per le fasce più deboli. L'obiettivo appunto dell'amministrazione comunale è quello di consentire agli utenti di evitare di andare a Pescara quindi di accentrare tutti i servizi nel capoluogo dell'area Vestina ma soprattutto potrà svolgere quel ruolo di volano anche per tutti gli altri centri dell'Interland Vestino. In questi ultimi anni abbiamo proprio intrapreso un'attività volta a riportare appenne tutti i servizi, abbiamo salvaguardato la sede dell'Inps e tra qualche settimana riaprirà anche lo sportello ACA quindi l'amministrazione è molto impegnata per tutelare i servizi agli utenti. Entro l'autunno sarà disponibile lo sportello perché peraltro la regione ha interesse ad attivarli immediatamente sul territorio regionale.